Perché tutti sappiano che questa unità è costata tantissimo e dobbiamo insegnare i nostri figli, come ho già detto, ad essere orgogliosi e soprattutto dovete chiedere che le scuole, come già fanno all'estero, scrivano realmente quanto è avvenuto negli anni 1860-1870 nel meridione d'Italia. Questo è il fine di quest'anno e speriamo che da oggi noi tutti ci sentiamo più meridionali e più italiani. Grazie.